Spero che nessuno in Europa o in Italia ci metta i bastoni fra le ruote Ci sono, leggete il contratto c'è tutto Una figura che vada bene entrambi con un'esperienza professionale incontestabile e che condivida e che abbia aiutato ovviamente la stesura del programma di governo Non è qualcuno che passeggia oggi pomeriggio al portello evidentemente Quasi tutti quelli che ci stanno dando lezioni hanno contribuito al fallimento dell'Italia negli ultimi anni Non parlo di Cottarelli ma parlo di altri E quindi non mi spaventano le critiche altrui